Come dimostrato da molti studi, durante una lezione frontale esiste un calo fisiologico dell'attenzione che inizia dopo 15 minuti con un picco negativo a 40-50 minuti. Per ovviare a questo problema e per aumentare l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, il primo passo è attivare gli studenti. Quando si hanno classi grandi, ossia con 100-150 studenti e oltre, lo sforzo organizzativo, gli spazi a disposizione e i tempi richiesti rendono però molto difficile introdurre attività o perlomeno impossibile farne spesso. Ma è proprio vero? Un aiuto significativo per poter contenere i tempi e attivare dinamiche anche complesse viene da tre fronti. Come prima cosa, non sottovalutare l'efficacia di attività veloci, che impegnano gli studenti per pochi minuti, ma che svolgono l'importante ruolo di riattivare l'attenzione, stimolare il ragionamento e rinforzare l'apprendimento. Forniscono inoltre un primo feedback sulla comprensione dei contenuti, utili sia agli studenti che al docente. È possibile poi, anche solo per alcuni argomenti, utilizzare un formato microblended, che prevede la fruizione individuale di contenuti, prima o dopo la lezione, attraverso materiali alternativi come testi, slide, video, eccetera, e che consente quindi di svolgere in classe attività più lunghe e articolate. Un ulteriore fronte, utile soprattutto nei contesti di classi numerose, è l'utilizzo di sistemi digitali per condividere, raccogliere e gestire le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività. Proviamo ora a fare un esempio di attività veloci, supportate da uno strumento digitale che si rivela particolarmente interessante nei contesti di classi grandi, i clicker. Attraverso i clicker, il docente crea in modo semplice, li gestisce in modo altrettanto semplice, quiz a cui gli studenti possono rispondere in modo immediato utilizzando semplicemente uno smartphone o un pc connessi alla rete. Per ogni singola domanda, i clicker consentono inoltre di vedere in tempo reale i risultati aggregati dati dagli studenti. In questo modo è facile, sia per il docente che per gli studenti, avere un feedback preciso e in tempo reale sulla comprensione dei contenuti e mettere in campo quindi se serve azioni correttive. L'aspetto interessante dei clicker è che consentono non solo di fare semplici quiz di comprensione dei contenuti, ma possono essere utilizzati attraverso modelli d'uso differenti, da quelli più semplici a quelli più strutturati. Facilitano così la memorizzazione dei contenuti, ma supportano anche obiettivi di fascia alta, come creare o valutare. Attraverso i clicker è possibile così rompere il flusso unidirezionale docente-studente inserendo momenti brevi di dialogo con la classe. Il fatto poi che supportino obiettivi di apprendimento diversi rende possibile integrarli all'interno dell'intero nostro corso in un progetto coerente. Vediamo ora un esempio di progetto integrato in una classe numerosa e con limitate risorse di tempo da dedicare alle attività, nella quale però i clicker vengono proposti secondo differenti modelli d'uso. All'inizio di ogni lezione il docente può decidere di proporre un test sulle conoscenze pregresse, che vada quindi a riportare l'attenzione degli studenti sull'argomento di cui si sta parlando e che serve a ribadire concetti chiave visti la lezione precedente. All'inizio poi di una spiegazione teorica particolarmente complessa, il docente decide di lanciare un test di anticipazione, che quindi stimoli il recupero di conoscenze pregresse e che solleciti la ricerca di risposte intuitive. Al quiz non viene dato un feedback immediato, ma il docente stimola gli studenti a prestare attenzione alla spiegazione per capire se la risposta data era corretta oppure no. Al termine della spiegazione il docente riprende le risposte date e fornisce un commento. Al termine poi di una spiegazione teorica il docente può decidere di lanciare un'attività di esplorazione su un caso reale, oppure può lanciare un semplice test di consolidamento di quello che ha appena spiegato, test al quale gli studenti possono rispondere prima in modo individuale, poi discutono della risposta data con il proprio vicino di banco per rispondere nuovamente in modo individuale allo stesso quiz, confermando o modificando la prima risposta che era stata data. In questo modo in pochi minuti si riescono ad attivare momenti di dialogo con i propri compagni e si rompe il flusso unidirezionale docente e studenti. Tutti questi quiz poi possono diventare test di ripasso a disposizione degli studenti fuori dall'aula. Ovviamente nelle lezioni successive il docente può modulare la tipologia delle attività che propone e anche la loro frequenza. Al termine poi di argomenti, macro argomenti specifici, il docente può decidere di lanciare delle competizioni di consolidamento individuali o di gruppo. L'importante è che le attività siano sempre ben integrate all'interno del flusso della lezione, così come da non sottovalutare è il momento del feedback alle singole attività, grazie al quale si dà valore all'esperienza. È proprio questo infatti il momento in cui gli studenti hanno massima disponibilità all'ascolto e un'alta motivazione all'apprendimento.